Continua la drammatica situazione di stallo degli impianti di risalita dei Prati Itivo, una condizione su cui il sindaco del comune montano di Pietracamela Antonio Villani è tornato a chiedere un intervento immediato alle istituzioni, per porre fine all'incertezza che regna da anni. Nel frattempo la regione ha messo a disposizione del comprensorio del Gran Sasso circa 2 milioni e mezzo di euro di fondi CIS, contratto istituzionale di sviluppo del cratere Centro Italia, per un progetto presentato dalla provincia di Teramo che ha come obiettivi la messa in sicurezza del bacino sciistico, l'acquisto di nuovi cannoni sparaneve, la riqualificazione della sentieristica con riconversione energetica. Ma un dato che lascia ben sperare per il futuro è che nonostante la chiusura degli impianti di risalita c'è stata in questi mesi una grande presenza di turisti nel fine settimana. Francamente nessuno di noi capisce che cosa sta succedendo. Ci si aveva detto già l'anno scorso che l'unica cosa che mancava per aprire erano le concessioni, che il resto stava tutto a posto, le concessioni sono state date e gli impianti non partono. Quindi francamente siamo delusi, siamo delusi perché non si può più credere a quello che le istituzioni o personaggi con responsabilità dicono. E questo mi duole dirlo, però la verità è quella. La verità è che ci avevano annunciato che era tutto pronto, che stava tutto a posto, che mancava solamente le concessioni e adesso risulta che non è così. Quindi noi come operatori economici dobbiamo programmare, dobbiamo preparare una stagione, dobbiamo affrontare una stragione, lo diciamo anche in base a quello che chi preposto a certe funzioni ci dice e annuncia pubblicamente e risulta che questo non è vero. E questo è grave, questo è molto grave. Oramai possiamo dire che la stagione invernale è acqua passata, si pensa a quell'estiva? Dal punto di vista impiantistico sì, la stagione invernale quest'anno a pratetivo devo dire ancora funziona, la gente ama quel posto e continua a salire, il meteo ci ha aiutato e quindi l'attività economica prosegue. Però evidentemente se stiamo in questa condizione di non sapere che cosa ci dicono le istituzioni o chi preposto a fare funzionare gli impianti ci preoccupa per quest'estate, siamo molto preoccupati.